a tutti voi un cordiale saluto apriamo con il calcio domenica realforte lucchese è la terza volta sarà la terza volta che le due squadre si affrontano in questa stagione terzo confronto stagionale tra lucchese realforte querceta per la serie non c'è due senza tre 12 giorni dopo essersi radunata la lucchese affronta il primo impegno ufficiale è il turno preliminare di coppa italia una squadra nata dalle ceneri dell'ennesimo fallimento si presenta al necchi balloni al cospetto del real forte a sorpresa per quanto suddetto i rossoneri vincono 1 a 0 in un match caratterizzato dai calci di rigore ne fruisce subito il real forte ma guidi se lo fa parare da fontanelli non sbaglia invece cruciani a metà del secondo tempo regalando così alla pantera vittoria e qualificazione al primo turno di coppa italia la seconda volta arriva quasi subito al 15 settembre gara in casa della lucchese che però vista l'indisponibilità del porta elisa è costretta a migrare in quel di camaiore la partita si incanala sui binari giusti per i rossoneri in maglia bianca che evidentemente non porta proprio fortuna dopo 8 minuti il real forte rimane in 10 per l'espulsione del difensore giovannelli all'undecimo azione personale di nannelli che entra in aria e scaglia un raso terra che sorprende il portiere forte marmino la lucchese insiste si ora raddoppino almeno un paio d'occasioni ma non passa così partita non chiusa partita che si ribalta in avvio di riprese nel breve volgere di 5 minuti prima ciccio di paola trova il punto del pareggio e poi lazzarini porta addirittura in vantaggio la formazione di cristian amoroso e la lucchese sta giocando in superiorità numerica pazzesco che tanto pazzesco poi non è perché nonostante una sterile supremazia territoriale la squadra di monaco non riesce a recuperare e in cassa una bruciante sconfitta da allora però di acqua sotto i ponti ne è passata assai e dopo quattro mesi questa è davvero un'altra lucchese e in tema di mercato la lucchese ha ufficializzato l'ingaggio del giovane difensore esterno edoardo soldati vent'anni arriva dal picerno in questa prima parte della stagione ha giocato due partite in serie c col picerno ed una in coppa italia è già disponibile per il derby di forte dei marmi di cui parlavamo in precedenza il tennis sorteggiato il tabellone femminile degli australian open jasmine paolini affronterà martedì nel primo turno del prestigioso torneo australiano la giovane russa anna blinkova numero 58 delle classifiche mondiali qualora riuscissi a superare il turno la ventiquattrienne tenista lucchese potrebbe poi trovare sulla propria strada la statunitense anisimova o l'olandese kiki bertens testa di serie numero 9 ancora tennis jessica pierri avanza il torneo di malibu in california negli ottavi di finale la ventitrenne tenista lucchese ha superato in 3 set l'americana katie volinez nei quarti di finale jessica affronterà la statunitense katherine harrison il basket la geonova si prepara ad affrontare una delle trasferte più difficili e complicate del campionato prima dal punto di vista logistico è ancora più complicato dal punto di vista tecnico paffoni o megna malgrado la sconfitta maturata contro piombino infatti saldamente al comando del campionato con 13 vittorie su 15 partite quella piemontese è una squadra forte e ben strutturata che all'andata spugnò al palatagliate 79 a 72 i ragazzi di coach catalani palla 2 sabato sera alle 21 dovranno giocare veramente una grande partita per cercare come suol dirsi l'impresa e sabato sera alle 21 si gioca anche nel campionato di b1 di pallavolo al palapiagge la bionatura nottolini ospita il moncaro moi ancona attualmente terzo ultimo in classifica con 11 punti la nottolini nonostante l'assenza di capitano roni per fortuna l'esito della risonanza dato esito negativo è chiamata ad un pronto riscatto dopo la sconfitta di perugia e siamo all'hockey fermo parzialmente il campionato di serie a 1 per gli impegni di coppa sottolineiamo nel servizio di releppure l'impegno di sabato sera dei campioni d'italia del forte dei marmi l'hockey forte dei marmi riceve sabato sera alle 21 alla pala sport di vittoria puana per il turno di eurolega l'olive renze in testa quota 9 del proprio girone mentre il rosso blu sono ultimi con un punto assieme al sant'omer all'andata del risultato fu a favore delle oliverenze per 7 a 2 non sarà affatto quindi una partita facile in considerazione del fatto che pierluigi brecciani deve rinunciare alla difensore savi rubio che si è infortunato alla mano con la gara con il bassano e ne avrà per oltre un mese la squadra come sempre avrà bisogno del suo pubblico per uno sostegno che in questa partita diventa molto importante per tenere vive le speranze ormai minime del passaggio del turno il rosso blu poi mercoledì se la vedranno in campionato in trasferta sulla pista del monza intanto nel posticipo il valdagna ha superato il sarzana 3 a 1 segnando con un gol convalidato dagli arbitri con un buco nella rete liguri che mercoledì sera riceveranno il centro giovani calciatori che sabato non partecipando a nessuna coppa internazionale quindi riposerà e con l'hockey su pista si chiude anche la pagina sportiva del tg non avrebbe pausa e poi il tg prosegue con la terza ed ultima parte